La felicità è un tema caro a tutti noi ed è sempre stato caro in tutti gli esseri umani della storia, quindi gli stoici non facevano eccezione per questo. A questo punto chiediamoci, esiste una formula per la felicità? Beh sì, esiste. Non solo una in realtà, ne esistono ben tre di formule e con le quali gli stoici si sarebbero trovati completamente d'accordo. E con questo video voglio condividerle con voi. Ma prima proseguiamo per gradi e chiediamoci, perché tendiamo ad essere infelici molto spesso? Da quando ci sono i social, la nostra vita è cambiata. E si fa molto presto nel dire che ci stanno rovinando la vita al giorno d'oggi. Io non sono per niente d'accordo con questa cosa e penso che infatti i social siano un cambiamento epocale e altamente positivo nella nostra esistenza. Sta semplicemente, come tutte le cose, a noi decidere come usarli. Ricordo infatti che anni fa, quando ero uno studente, ero solito passare ore e ore del mio tempo su Facebook e su Instagram, sì, allora si usava ancora Facebook, a vedere le vite di tutte le altre persone. E guardandole non facevo altro che provare insoddisfazione per la mia vita, perché sembravano tutti più felici di me, sembravano tutti più soddisfatti e realizzati di me. Io mi sentivo molto indietro rispetto a queste persone e questo sentirmi indietro mi creava un senso di urgenza con una insoddisfazione perenne. Insomma, quindi, le vite di tutti mi sembravano perfette. O così sembrava. Perché effettivamente ci ho messo tanto tempo per capire che i social non rappresentano la realtà. E al giorno d'oggi c'è molta più consapevolezza di questo. Però effettivamente ancora tutti noi oggi cadiamo un po' nella trappola. Cadiamo un po' nella trappola di insoddisfazione nel momento in cui paragoniamo le nostre vite con ciò che vediamo su internet. Benissimo, quindi fatta questa doverosa premessa, voglio dirvi che per il momento ho deciso di effettuare un abbonamento ad una rivista americana che si chiama The Atlantic. Ed è veramente interessantissima perché lì si possono trovare argomenti di attualità, tecnologia, scienza, psicologia, filosofia, di tutto. Qualche giorno fa mi sono imbattuto in un articolo di Arthur Brooks che ho trovato interessantissimo. E in questo articolo Arthur Brooks condivideva tre equazioni attraverso le quali noi possiamo trovare la felicità. E voi sapete benissimo, io da buon ingegnere nel momento in cui ho sentito la parola equazioni mi si sono subito illuminati gli occhi e quindi l'ho letto immediatamente. Senza ulteriori indugi condividerò con voi queste tre equazioni attraverso le quali noi possiamo trovare la vera felicità nella vita. La prima equazione dice che la felicità intesa di più come benessere è la somma delle circostanze che ci succedono, abitudini e genetica. La componente genetica che cosa rappresenta? Rappresenta il grado di benessere a cui noi naturalmente torniamo nel momento in cui sperimentiamo un evento positivo. Bisogna capire che il nostro corpo cerca sempre di ritornare ad uno stato di equilibrio che si chiama omeostasi. E questo stato di equilibrio a cui torna il nostro corpo è il nostro set point di benessere genetico. Quindi ci sono persone che hanno un set point molto più alto e quindi tendono naturalmente ad essere più felici e persone che invece ce l'hanno naturalmente più basso. Questa componente della genetica è una componente che noi non possiamo controllare ed incide per un 44-52%. Ma possiamo migliorarla semplicemente in questo modo. Se siamo per esempio dei tipi introversi è dimostrato che essere una persona più estroversa porta più felicità. Quindi noi possiamo anche imparare a sforzarci ad essere sempre più estroversi. E questa è una caratteristica che si allena. Come si suol dire, fingi finché poi non lo diventi sul serio. Quindi il set point genetico può essere allenato in questo modo. Il secondo addendo che entra in questa equazione sono le circostanze esterne. Queste invece incidono molto meno. Incidono per circa un 10% fino a un massimo del 40%. Incidono poco perché come abbiamo detto prima il nostro corpo tende a tornare sempre ad uno stato di equilibrio. Quindi non è importante quanto una circostanza sia bella. La vera felicità, il vero benessere non proverrà mai in maniera prepotente dalle circostanze esterne. Il terzo addendo invece sono le abitudini. E per capire meglio questa componente andiamo a vedere ora la seconda equazione che dobbiamo tenere in considerazione. Ovvero che le abitudini sono la somma di fede più amici più famiglia più lavoro. Che cosa intendo per fede? Non intendo solamente la fede religiosa ma è un concetto molto più ampio. Può essere anche rappresentata dalla filosofia, dalla scienza. Tutti questi tre campi conducono allo stesso grado di benessere. È importante però che tu creda in qualcosa. Che sia la religione, che sia la filosofia, che sia la scienza. Perché è molto importante avere una struttura attraverso la quale noi possiamo farci delle domande molto importanti, le cosiddette domande esistenziali, e cercare di trovare una risposta. Per quanto riguarda invece le componenti di amici e famiglia, noi possiamo migliorarle semplicemente amando e stando a contatto con queste persone. Il punto è che la felicità è amore. Punto. Non c'è altro da dire. E infatti anche Seneca diceva, non è difficile. Se vuoi essere amato, ama. La chiave di tutto in questo caso è mantenere legami di amore con queste persone. E poi parliamo ora del lavoro. Non è importante qui che tipo di lavoro fai o quanto guadagni, perché i soldi non comprano il benessere. E ci torneremo tra poco su questo punto. La componente di felicità che deriva dal nostro lavoro ha a che fare con quanto questo lavoro sia significativo in termini di stiamo servendo le altre persone, il mio contributo manda avanti la società, quanto significato riesco a trovare nel mio lavoro. Ed arriviamo ora alla terza equazione che dobbiamo tenere sempre con noi. Ovvero, prima ho parlato del fatto che i soldi non comprano il benessere. Che cosa intendiamo con benessere? Benissimo, il benessere è dato dal rapporto tra ciò che abbiamo e ciò che vogliamo avere. Quindi, come possiamo vedere da questa equazione, maggiore sarà il denominatore, quindi maggiore sarà ciò che vogliamo avere, minore sarà il nostro benessere. Ecco perché i soldi non comprano il benessere. Che cosa comprano i soldi? I soldi comprano botte di dopamina. Perché? Nel momento in cui noi otterremo qualcosa, nel momento in cui noi aumenteremo il nostro tenore di vita con i soldi, quindi andando a comprare cose più costose, il nostro cervello ci farà sentire veramente, veramente tanto felici. E allora noi che cosa faremo? Siccome però il nostro corpo tende all'omeostasi, noi col tempo, col passare del tempo, neanche tanto tempo in realtà, non faremo altro che abituarci a quel tenore di vita. Ma noi saremo nel frattempo diventati drogati, diventati dipendenti da quella dose di dopamina, quindi per sentirla nuovamente non faremo altro che comprare cose sempre più costose. Sentendoci quindi perennemente insoddisfatti, perché in questo caso andremo a spendere anche soldi che non avremo, cadendo quindi in una spirale di infelicità. Ecco perché i soldi non comprano il benessere. Quindi per essere soddisfatti non dobbiamo andare a lavorare su ciò che abbiamo, piuttosto dobbiamo andare a limitare ciò che vogliamo. Ed è quello che dicevano gli stoici, l'uomo che ha quanto basta è l'uomo più felice del mondo. E qui in questo caso dobbiamo adottare il sistema della doppia lista di cui ti parlavo nel video su come lo stoicismo ci insegna a diventare veramente ricchi. Quel metodo è veramente importante perché ci aiuta a capire ciò che ha veramente significato e ciò che ci provoca il vero benessere, quello duraturo che dura tutta una vita. Ed ecco ragazzi, queste sono le tre equazioni della felicità con le quali gli stoici sarebbero stati assolutamente d'accordo e questo lo potete vedere anche in un'opera che Seneca intitola la felicità, della quale ti consiglio vivamente la lettura se vuoi imparare ad essere veramente felice. Perché infatti in questa opera Seneca ci dice che tutti gli strumenti di cui noi necessitiamo per vivere una vita veramente piena e veramente felice sono già a nostra disposizione, non dobbiamo acquistarli, li possediamo già, dobbiamo semplicemente trovarli. Ed è proprio quello che sto cercando di fare io d'ora in poi e vi consiglio caldamente di fare lo stesso. Quindi ragazzi grazie mille per aver seguito fino a qui, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per supportare la mia attività e per me sarebbe molto importante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!